Continuiamo quindi i nostri ragionamenti sull'apprendimento della lettura. Una domanda che ci potrebbe venire in mente a questo punto per le cose dette finora è ma leggere le parole e leggere la musica hanno quindi diciamo delle reti neurali sovrapposte o sono due processi completamente distinti? Quindi abbiamo già diciamo un pochino detto questa cosa cioè ci sono una serie di sottoprocessi cognitivi che stanno diciamo tutti all'interno del processo di lettura, alcuni di questi sono sovrapponibili, abbiamo visto per esempio che l'analisi della forma grafica di una nota quindi se è nera, se è bianca, se ha la gambetta eccetera, sono processi simili a quelli dell'analisi della forma grafica delle lettere, quindi sono sovrapponibili, hanno le stesse reti neurali, usano le stesse reti neurali e poi ci sono processi invece che sono distinti, per esempio il fatto che la musica venga letta attribuendo una diciamo una posizione dello stimolo su una griglia di sfondo, cosa che nel linguaggio avviene molto meno, non avviene quasi mai, mentre avviene per esempio nella matematica quando incoloniamo le operazioni, di fatto invece la posizione dello stimolo sulla griglia di sfondo, cioè le unità, le decine eccetera, acquisisce significato quindi usiamo quella via dorsale del where. Insomma, detto questo potremmo dire che allora se è vero che alcune reti sono assolutamente sovrapponibili tra lettura di parole e lettura di note e alcune no, allora dovremmo trovare associazioni di deficit nella lettura della musica, nella lettura dei testi, ma anche dissociazione talvolta tra i due domini, cioè ci saranno soggetti che per dei problemi neurologici, per esempio un ictus, potranno perdere la capacità di leggere sia le note che le parole o parte di questa capacità e soggetti che magari per il fatto che hanno il danno in un altro punto del cervello perdono magari la capacità di leggere le parole ma non le note. Quindi possono essere vere entrambe le cose e in effetti è così, ci sono veramente molte sfumature nelle dislessie musicali e delle, anzi alessie diciamo, chiamiamole così, c'è proprio incapacità di leggere musicali o di testi. Ci sono diversi quadri clinici completamente diversi uno dall'altro e tutto fa pensare che ci siano quindi reti sovrapponibili ma anche reti distinte. Io ho avuto l'esperienza durante il mio tirocinio di dottorato di osservare dei pazienti che erano in riabilitazione post ictus presso un ospedale di Torino dove facevo diciamo il mio tirocinio e talvolta mi è capitato di avere la possibilità di parlare con dei pazienti che erano musicisti, mi ricordo in particolare un uomo che aveva avuto una piccola asportazione di una parte di lobo parietale a causa di un tumore e ricordo che lui mi aveva raccontato che aveva capito di non stare bene quindi che qualcosa stava succedendo al suo cervello perché nonostante lui continuasse a leggere normalmente le parole, infatti il suo danno era nella via diciamo quella alta, quella del where, invece non riusciva più a decifrare gli spartiti di musica, lui era un flautista, semiprofessionista, comunque un ottimo lettore e diceva che riusciva a leggere le note quindi a vedere o osservarle, leggerle ma non riusciva più ad immaginare il suono dello spartito che vedeva, anche di brani che aveva suonato per tutta una vita e quindi si era allarmato, poi ha cominciato ad avere problemi di orientamento, diciamo si perdeva tornando a casa quando usciva a piedi e quindi a quel punto poi si è fatto visitare e purtroppo ha scoperto che la situazione era molto critica, però mi aveva raccontato questa cosa in effetti molto particolare che fa pensare appunto a queste diverse reti neurali, è una riprova del fatto che è vero che ci sono delle reti neurali parietali che servono per organizzare gli stimoli nello spazio in relazione tra loro e non per attribuire significato alle singole forme degli oggetti, quindi ci può essere un danno selettivo che impedisce la lettura di segni musicali ma non di lettere o di numeri e ci può essere un danno selettivo della lettura musicale che preserva la capacità magari di suonare, cantare, memorizzare la musica ma invece inficia la lettura. Per esempio ci sono danni selettivi in cui i pazienti sono in grado di leggere l'altezza dei suoni e quindi di immaginare l'altezza del suono ma non la lettura ritmica, infatti la lettura ritmica è determinata da, per quanto riguarda la codifica, dalla forma della nota, quindi per esempio un attributo del colore, se è vuota, bianca o se è nera, colorata, o se ha le gambette corte, lunghe, mentre l'altezza dei suoni abbiamo detto è stimolo su griglia, quindi questi sono lavori di letteratura dove sono stati studiati dei pazienti con danni selettivi. Quindi la domanda che potremmo porci, se dovesse capitarci di avere, e capita spesso ve lo assicuro, dei ragazzini a lezione di musica con certificazione di DSA, potremmo chiederci se questi ragazzini possono avere delle difficoltà particolari nel leggere la musica e in quali domini della lettura della musica sono più in difficoltà e come possiamo aiutarli. A questa domanda abbiamo ampia risposta in un altro corso che proporrò a chi è iscritto all'indirizzo di disabilità, ma se poi qualcuno di voi fosse interessato io ovviamente lo metto a disposizione di tutti. Quindi noi possiamo avere davanti i ragazzini, diciamo con delle difficoltà particolari di lettura, che vediamo stancarsi particolarmente, sembra che questa lettura non si automatizzi mai, beh possiamo anche chiederci se non ci sia una piccola forma di dislessia musicale, seppur magari questa forma di dislessia non sia evidente nel linguaggio scritto, quindi nelle parole, nella lettura e scrittura di parole. Oppure al contrario potremmo trovarci di fronte a un ragazzino che ha dei problemi di dislessia ma che non sono stati certificati. Ciò non vuol dire assolutamente, mi raccomando, che dovete allarmare famiglie nel momento in cui i ragazzini non riescono a leggere secondo i vostri, diciamo, le vostre aspettative. State molto attenti da questo punto di vista, non allarmate mai nessuno, però ragionate non tanto per fare false diagnosi di cui non abbiamo né competenza né diritto e non è nostra mansione, quanto per non spazientirci, non perseverare in atteggiamenti metodologici che magari non sono quelli efficaci, quindi chiediamoci sempre da dove arrivano le difficoltà di ciascuno dei nostri allievi, perché dobbiamo comprendere come il cervello impara a leggere parole e musica scritta, perché questo è l'unico modo per poter avere dei suggerimenti dalla scienza per imparare a interpretare le difficoltà degli allievi e quindi anche, diciamo, operarci per essere creativi nei nostri metodi. Allora, parlando di apprendimento della lettura, adesso entriamo per un momento nel mondo proprio della psicologia generale dello sviluppo, quindi psicologia cognitiva dello sviluppo e vi racconto, diciamo, quelle che sono le conoscenze scientifiche che abbiamo sulle tappe di apprendimento della lettoscrittura nel bambino inesperto, quindi come il bambino impara a leggere. C'è un modello, un modello diciamo teorico, che si chiama modello a tre stadi, questo modello è stato studiato nella lettura della parola scritta, noi potremmo trarre però delle considerazioni anche sulla lettura della musica, sebbene questo non sia scientificamente provato, però possiamo provare a ragionare. Non è ancora stato, diciamo, studiato il modello a tre stadi nella lettura della musica, sono stati studiati dei modelli, ipotizzati dei modelli che traggono ispirazione da questo e ne parliamo un po' più avanti. Allora, che cos'è il modello a tre stadi? I tre stadi sono questi, la tappa logografica, la tappa fonologica e la tappa ortografica. Nella tappa logografica il bambino vede le parole nella loro forma globale, come fossero degli oggetti. Nella tappa invece fonologica il bambino comincia a riconoscere che le parole sono formate da tanti, diciamo, atomi, come le lettere e le sillabe, che compaiono in diverse combinazioni probabilistiche. Ka, za, ka, ne, ka, vo, eccetera eccetera. Quindi c'è tanta probabilità che dopo ka ci sia un'altra lettera. Questo si chiama statistical learning, cioè il bambino analizza tutte queste sillabe, questa successione di parole e il suo cervello, quasi come un calcolatore elettronico, comincia a farsi un'idea statistica di come queste lettere e queste sillabe vengono collegate nella sua lingua madre e che la combinazione di esse ha di solito un particolare suono e quindi impara il suono delle sillabe e il suono delle parole complete. Questa è la tappa fonologica. La tappa ortografica invece permette al bambino di riconoscere le parole velocemente perché la codifica fonologica diventa rapidissima, quindi la codifica delle varie sillabe, delle varie lettere, il suono e il simbolo grafico. Questa è la codifica fonologica. Il bambino quindi collega quella parola a una serie di vocaboli che già conosce, di cui conosce il significato e che sono presenti nel suo repertorio, nel suo magazzino lessicale. L'esempio che avevamo fatto in video precedenti del bambino che legge la parola casa, nella tappa logografica vedrà la parola casa come un oggetto, cioè vede quelle quattro lettere lì e per lui è un oggetto come fosse un tavolo, una sedia. La tappa fonologica gli permette invece di cominciare a essere autonomo nel decifrare lettere e sillabe, quindi vedrà di quella parola casa la sillaba ca e quella za e il fatto che ogni sillaba sia composta da determinate lettere e associa il suono di ogni lettere, il suono di ogni sillaba ai simbi grafici per poi ricostruire il suono globale della parola casa, quindi è già un processo di lettura, mentre prima nella tappa logografica il bambino vede la parola ma non la legge. Nella tappa ortografica il bambino diventa esperto, cioè riesce talmente velocemente a codificare fonologicamente le sillabe e le lettere della parola casa, anche per il fatto che ormai per lui ca, za sono molto probabili e molto spesso le trova vicine, così come trova vicino c, a come k, allora riesce a leggere davvero velocemente e quindi legge la parola casa e collega tra l'altro questa parola, questo suono, a tutta una serie di altre parole di cui conosce il significato che sono inerenti e collegate semanticamente alla parola casa, un po' come faceva quando la parola diciamo dottore veniva facilitata, la lettura della parola dottore veniva facilitata da tutto ciò che si conosce dell'ambito medico, quindi tutte quelle parole che si chiamano vicini semantici che abbiamo nel cervello e che possiamo preattivare per andare a leggere la parola target. Questi sono i tre stadi di cui l'ultima diciamo è prerogativa della lettura esperta. Quindi parliamo delle tappe una alla volta, la tappa logografica detta anche pittorica avviene intorno ai 5-6 anni. Il sistema visivo quindi riconosce le parole nella forma globale, per esempio se noi facciamo vedere al bambino la parola coca cola scritta con la forma e il logo della coca cola, il bambino legge coca cola, ma non è che legge le parole o le lettere o le sillabe, analizza questa immagine come fosse un oggetto con un orientamento delle curve, è una forma che lui conosce, sa che quella è una coca cola perché l'ha vista mille volte sul tavolo in pizzeria quando la mamma non gliene vuole dare troppo perché è piena di zucchero e quindi lui legge la parola coca cola grazie alla sua capacità pittorica logografica senza leggere le lettere. Se infatti io dovessi, adesso purtroppo non ho trovato l'esempio in internet, ma c'è proprio un lavoro di ricerca dove esattamente con la stessa grafica del logo della coca cola è stata sostituita la parola con co-co, quindi cambiano le lettere, però sempre con quella grafica lì rossa tuttondeggiata e i bambini leggono coca cola, i bambini di 5-6 anni, non si accorgono che ci sono altre lettere ovviamente perché usano la tappa logografica. Allora in analisi, in notazione musicale questa tappa logografica ce l'abbiamo anche noi e resta tutta la vita, la usiamo tantissimo, anzi per noi fa parte della lettura esperta, non è solo la prima tappa di apprendimento della lettura, ma rimane rilevante anche nelle fasi tardive di apprendimento. Se noi dobbiamo leggere la solita cellula d'ore, fami la re, noi dobbiamo osservare diciamo l'onda grafica che questa melodia crea sullo spartito, che sale e poi fa un salto per scendere. Quell'analisi diciamo del contorno, della forma dell'onda ci permette di decifrare molto velocemente le altezze dei suoni e prevedere tra l'altro a una sola occhiata il suono di quella cellula, sempre con un approccio pittorico logografico. Cosa vuol dire questo? Che purtroppo quando noi impariamo a leggere la musica molto da piccoli, cioè all'inizio, quando non siamo ancora capaci, il fatto di leggere la musica direttamente allo strumento e decifrare un pallino dopo l'altro, organizzando il movimento di un dito dopo l'altro, inibisce moltissimo questa lettura globale, perché siamo molto concentrati sulle singole note, ciascuna col suo gesto, ciascuna col suo nome e perdiamo un po' di vista la forma grafica invece della cellula. Quindi il ruolo dell'insegnante è fondamentale che l'insegnante si occupi moltissimo invece di mantenere sempre viva l'osservazione logografica delle cellule, prendendo dei piccoli pattern melodico-ritmici, leggendoli nella loro interezza, semplificando moltissimo il gesto strumentale, quindi magari usando la voce, il canto, oppure tenendo diciamo la pulsazione con dei movimenti per esempio di danza e intanto cantando la melodia, ma non cantando tutta la melodia del brano, cantando solo piccole cellule, in maniera da creare, come fossero delle parole, creare diciamo la forma grafica di quelle microcellule, in genere una battuta, al massimo due. Come fare a non annoiare il bambino? Beh, si può usare la cellula come pedale su cui qualcos'altro avviene, dei movimenti diversi, una danza, quindi si canta la cellula intanto però si variano i movimenti, oppure un bambino tiene una cellula e un altro bambino improvvisa un ritmo su un tamburo, insomma si cerca di rendere varia la ripetizione della cellula, ma la ripetizione della singola battuta in loop fa sì che si mantenga questo atteggiamento logografico fondamentale per l'apprendimento della lettura musicale e che deve rimanere per tutte le tappe successive diciamo di lettura. Sappiamo anche che c'è un'area, la scienza ci dice, che c'è un'area del cervello che si chiama giro di Eschl, che quando danneggiata crea difficoltà nel riconoscimento dei cambi di direzione intervallari della musica, quindi proprio questa parte diciamo logografica e pittorica in associazione al suono. Il giro temporale superiore destro invece ci permette la discriminazione del contorno melodico, questo avviene anche nel linguaggio, la prosodia del linguaggio viene analizzata da aree simili. Tutto questo ovviamente sempre in interazione con le zone relative alla working memory, quindi zone della corteccia frontale. I DSA che hanno un deficit di tipo fonologico cioè un deficit che fa sì che facciano fatica ad attribuire il suono, associare, a sentire diciamo bene la differenza tra un suono e un altro. Noi sappiamo che la dislessia ha diverse diciamo ipotesi etiopatogenetiche una di queste è il deficit fonologico, cioè pare che i bambini che sviluppano dislessia in età scolare in realtà abbiano avuto fin da piccolissimi un sottilissimo deficit, veramente poco riscontrabile ma che c'è, nell'analisi molto raffinata delle differenze tra un fonema e l'altro, per esempio ba e da, ta e ca, li sentono tutti leggermente simili. Quindi molto spesso sono bambini anche che nelle primissime fasi di apprendimento del linguaggio hanno qualche difetto di pronuncia quindi questo è un indice diciamo di rischio poi di sviluppare dislessia come se la loro elaborazione fonologica non fosse così fine e quindi confondessero proprio a livello uditivo certe lettere quando le sentono nominare e pronunciare dagli altri e quindi quando poi si trovano a leggere le parole e le sillabe e le lettere in realtà questo piccolo difetto che hanno coltivato nei sei anni, cinque sei anni precedenti li porta a essere un pochino meno precisi e quindi poi si confondono le b con le d le t con le d, insomma tutte lettere che di fatto hanno una pronuncia abbastanza simile c'è anche un aspetto visivo e un'altra teoria probabilmente i defici sono diciamo concomitanti però adesso parliamo di quello fonologico ora per questi bambini è possibile che invece un approccio globale alla lettura della musica e non nota per nota, possa essere estremamente facilitante l'importante quindi è potenziare questa lettura della forma globale di cellule musicali brevi in modo da formare come delle parole che sono poi piccole battute che hanno una loro diciamo conformazione melodico-ritmica che vengono isolate, creati dei pattern che vengono presentati isolati dallo spartito in maniera che l'attenzione visiva si possa concentrare solo su quell'elemento se non su uno spartito di 25 battute di cui quella è l'unica rilevante su cui stiamo lavorando quindi vanno estrapolati scritti a parte per non sovraccaricare il sistema attentivo e poi sperimentati in mille modi più sono modi vari e multisensoriali meglio è cosa intendo dire con sovraccarico del sistema attentivo? questo è un test che si usa in logopedia proprio per testare l'attenzione selettiva visiva nei DSA ma anche in altri quadri diciamo patologici è proprio un test di attenzione selettiva cioè ci sono questi mille oggetti piccolissimi tutti molto diciamo dello stesso colore e viene chiesto al soggetto di identificare tutte le campanelle si chiama proprio test delle campanelle ora normalmente i bambini affetti da dislessia ne identificano meno su unità di tempo sono più lenti, si stancano è incredibile come questa immagine possa in qualche modo somigliare a questa cioè immaginiamo di presentare al bambino questo spartito adesso questo è complesso ma era per farvi un esempio e poi però ci stiamo soffermando su questa battuta qua per renderla ciclica, per fare dei lavori per semplificarla, per cantarla è ovvio che se questa battuta è inserita in questo foglio l'effetto è come quello di cercare delle campanelle ben diverso dal vedere la cellula isolata insomma è anche meno ansiogeno proprio come stimolo se io so che devo leggere questa cellula e me ne devo impossessare quindi si fanno dei giochi, si fanno dei loop si canta è diverso se io questa cellula la vedo da sola o se la vedo in un mondo di cellule tutte difficili come quella che dovrò leggere e chissà quanto ci metterò quindi togliamo ansia i ragazzi prevedendo le difficoltà dello spartito e sottoponendo ai ragazzi prima attività propedeutica di quelle battute che ci sembrano particolarmente diciamo ostiche questo anche con i lettori più esperti un'altra strategia se non abbiamo previsto delle difficoltà è portarsi sempre dietro due mascherine queste sono due che uso io una che permette di isolare singole righe una che permette di isolare singole battute e appena si riscontra diciamo una difficoltà di lettura anzi io le uso proprio quasi sempre io parto ancora a monte cioè io organizzo gli spartiti sempre step by step quindi io smonto lo spartito originale e lo presento con piccole difficoltà alla volta a volte anche diciamo riscrivendole lasciando lo spazio per aggiungere note nelle settimane a mano a mano che si procede con la lettura quindi è come se io facessi sempre un riassunto dello spartito a volte questo però non è possibile quindi uso le mascherine per isolare dei problemi e quindi presento lo spartito all'allievo ma piazzo subito la mascherina davanti e gli dico oggi lavoriamo su questa parte qua la cantiamo, la suoniamo, ci balliamo sopra insomma tante attività ma il cervello del mio allievo non deve vedere lo spartito intero perché uno va in ansia due gli chiede uno sforzo attentivo notevole per andare ogni volta a ritrovare la battuta target anche perché se per caso decidiamo di fare delle attività di qualsiasi tipo quindi che siano di ampio movimento che siano lo strumento gli occhi del ragazzino andranno un po' allo spartito un po' al suo corpo ai compagni allo strumentario che stiamo usando quindi magari il tamburo piuttosto che io uso anche tanto siccome sono pianista la marimba e il vibrafono perché comunque fanno vedere la tastiera del pianoforte però in formato gigante e si può usare diciamo si possono usare i battenti quindi semplificando moltissimo il movimento fine delle dita eliminando il problema del movimento fine delle dita ma in questo caso l'allievo avrà lo sguardo sull'ambiente che lo circonda non sempre sullo spartito e ogni volta che dovrà rimettere lo sguardo sullo spartito dovrà cercare la battuta come in mezzo a come le campanelle in mezzo a mille altre e questo è uno sforzo che si chiede al cervello quindi bisogna aiutarlo isolando andiamo avanti col modello a tre stadi siamo alla tappa fonologica quindi la seconda che comincia a svilupparsi intorno ai 6-7 anni il sistema visivo smette di riconoscere le parole in forma globale questo nel linguaggio cioè nelle parole nella lettura di parole perché il sistema auditivo pone attenzione a tutti quei piccoli costituenti delle parole quindi le lettere e le sillabe e ne impara la corrispondenza quindi grafema fonema la b fatta così con le due pance a destra ha il suono b e il bambino decifra quindi una lettera alla volta nella tappa fonologica poi piano piano siccome statisticamente le b non sono mai vicino alle p o le t ma sono vicino a delle a delle o allora comincia a a rendersi conto che esistono delle sillabe con dei suoni caratteristici bo ba be supportati anche dalla maestra supportato dalla maestra che inizia a lavorare anche sulla sillaba e le fa scrivere e le fa riconoscere notate che ci sono due approcci all'insegnamento della della lettura c'è quello che si chiama metodo globale che è considerato più moderno cioè le maestre iniziano subito con le parole complete e invece ci sono maestre che iniziano diciamo rispettando la tappa fonologica in realtà la scienza attuale ci dice che la seconda via che poi è quella che è stata usata negli anni precedenti quindi la via dell'imparare a scrivere le lettere e poi le sillabe e a livello diciamo di congruenza con quello che è proprio lo sviluppo neurofisiologico più esatto più esatto come metodo però c'è ancora questa diatriba insomma tappa fonologica il bambino associa il grafema al fonema sia delle lettere che poi anche delle sillabe perché mette in atto lo statistical learning quindi acquista metafonologia cioè la capacità di ragionare su fonemi quindi su sillabe e lettere e di combinarle come fossero pezzettini dei lego sembra che questa capacità metafonologica sia un po' diciamo deficitaria in quei bambini che sono a rischio di sviluppare dislessia tant'è che in logopedia si fanno un sacco di giochi per aiutare a sviluppare questa capacità metafonologica giochi del tipo giochi che facevamo anche noi da bambini tipo io dico una parola e tu devi dire poi una parola che inizi con l'ultima sillaba con cui è finita la mia parola oppure io dico una parola tu devi cambiare una sola lettera e cambiare il significato della parola questi sono tutti giochi metafonologici che permettono al bambino di essere molto creativo con diciamo il maneggiamento di fonemi e quindi di lettere e sillabe a mano a mano che aumenta il numero di consonanti ci sono difficoltà crescenti quindi c'è un effetto di complessità sillabica tra l'altro mentre sto leggendo le slide vedo un sacco di errori che sembro dislessica pure io e non lo so nonostante io abbia due figli dislessici io non ho dislessia però non sto a correggere tutto perché dovrei rifare i video e adesso è meglio concentrarsi sui contenuti abbiate pazienza allora per analizzare meglio diciamo quello che avviene nello sviluppo della lettoscrittura in questa tappa quella fonologica dobbiamo iniziare a parlare di movimento movimento visto in termini multisensoriali cognitivi non semplicemente il braccio si muove il piede si muove ma è il movimento nel cervello organizzato nel cervello quindi ci sono due tipi di coordinazione importantissimi che vengono diciamo utilizzati nella lettura la coordinazione occhio-mano e la coordinazione diciamo in generale visuo-motoria a cosa serve beh per esempio la coordinazione occhio-mano può servire per sfogliare un libro oppure per risolvere dei problemi di matematica o anche per scrivere in generale dobbiamo pensare che il cervello deve mettere in atto un'integrazione visuo-motoria per organizzare dei gesti congruenti agli stimoli visivi quindi nel nostro caso per esempio articolare il movimento della bocca in base alle lettere che vuole pronunciare per come sono scritte oppure nel caso di suonare uno strumento articolare il movimento della mano sullo strumento in relazione a ciò che vede sullo spartito che il cervello vede sullo spartito quindi c'è questa integrazione c'è quindi un'integrazione visivo-motoria ma c'è anche un'integrazione motoria e uditiva perché? perché c'è un feedback quindi io vedo lo stimolo grafico mi coordino per eseguirlo la bocca se parlo la mano se suono in realtà anche la bocca perché di solito i bambini suonano intanto bene o male pronunciano quello che stanno suonando quindi il nome delle note per esempio però poi c'è anche una componente uditiva cioè io ascolto quello che viene fuori se non sono esperto ascolto quello che viene fuori dopo aver letto se sono esperto mi immagino il suono di ciò che leggo in ogni caso ho bisogno di una componente uditiva da integrare a ciò che vedo e al movimento che svolgo quindi leggere è una funzione è un compito multisensoriale perché riguarda tanti sensi sento vedo e mi muovo cross modale che riguarda tante modalità di relazioni con l'ambiente quello visivo quello del movimento quello dell'ascolto quindi la componente motoria e uditiva si sviluppa in età prescolare il suono è fondamentale già nel periodo prescolare per l'apprendimento del linguaggio un deficit nella percezione dei fonemi l'abbiamo già detto può predire l'insorgenza di dislessia dunque le sillabe che diciamo vengono udite vengono interpretate quando il bambino le sente anche attraverso il movimento della labbra del parlante cioè il bambino osserva il movimento della bocca della mamma che dice pappa si programma come per dire pappa anche lui e prova diciamo a muovere la bocca nello stesso modo con l'aiuto tra l'altro dei neuromi a specchio ma questo diciamo ne parleremo in altre in altre lezioni quindi impara a muovere la bocca imitando la mamma nello stesso tempo prova a produrre quel suono pappa che sente uscire dalla bocca della mamma e mentre c'è analizza anche che cosa vuol dire quel suono perché la mamma di solito lo pronuncia quando intanto gli dà una bella cucchiaiata di minestrina quindi il linguaggio viene appreso associando il movimento bucco facciale al suono il movimento bucco facciale è uno stimolo visivo che si trasforma in motorio perché il bambino prova a compiere il gesto fino a 5-7 anni i bambini si affidano di più alla componente uditiva cioè a quello che sentono rispetto agli adulti mentre gli adulti si fidano di più di quello che vedono vedo la bocca che si muove come si fa a sapere questa cosa e comunque poi verso i 9 anni invece il bambino anche comincia ad appoggiarsi soprattutto alla componente bucco facciale motoria come si fa a sapere che c'è questa distinzione si usa diciamo un protocollo sperimentale quindi si creano dei video in cui c'è una bocca che parla ma poi l'audio viene modificato quindi invece la bocca dice per esempio H ma l'audio viene tolto e viene sostituito con una registrazione di una voce che dice APA quindi l'informazione uditiva che per chi vede questo video è incongruente con ciò che la bocca in effetti fa e il cervello deve scegliere se dar retta la bocca o se dar retta quello che ascolta bene si è visto che all'interno ai 5-7 anni i bambini ascoltano APA e percepiscono APA mentre quando sono più grandi compresi gli adulti credono di sentire ACA perché la bocca in effetti nel video si muove come per dire ACA questo si chiama effetto Megark addirittura l'effetto diventa negli adulti che si fa una media quindi non è né ACA né APA ma una media tra le due cose ATA bene si è visto che i musicisti hanno una capacità di associazione audiovisiva moltisensoriale molto potenziata però non cadono nell'effetto Megark diciamo non hanno questo effetto di fare la media tra le due cose rimangono un po' come i bambini di 5 anni che si affidano maggiormente alla componente uditiva cosa ci fa pensare questo beh abbiamo detto che i bambini dislessici sono bambini che hanno probabilmente qualche difficoltà nella componente uditiva fine cioè queste differenze tra ACA APA per loro sono un po' sfumate il fatto che i musicisti abbiano una grande capacità diciamo audiovisiva potenziata ma non cadano in questo effetto ci fa pensare che fare musica fin da piccoli e molto presto potenzi tantissimo la componente uditiva di elaborazione fine a livello uditivo quindi può essere tra l'altro un ottimo modo per diciamo prevenire l'insorgenza di dislessia in quei bambini che già magari da piccoli manifestano qualche piccola confusione nell'elaborazione uditiva di certe consonanti e normalmente questo si evidenzia o si può intuire per difficoltà di pronuncia che in realtà sembra essere possono dipendere da una difficoltà di articolazione dei movimenti in realtà sono che il bambino non sente bene quelle differenze quando parlano gli altri e quindi non impara bene a articolarle lui di suo quindi fare musica da piccoli per questi bambini può essere un grande potenziamento della componente uditiva che poi li ripara dall'insorgenza di dislessia futura quindi noi sappiamo che il musicista è estremamente abile a percepire un suono distinguerlo da altri suoni che tra l'altro spesso vengono interpretati come sfondo pensate quando suoniamo in mezzo agli altri o quando ascoltiamo un brano orchestrato e noi siamo in grado di seguire con molta attenzione magari la melodia dell'oboe e tenere come sfondo tutti gli archi o comunque diciamo l'accompagnamento orchestrale quindi siamo estremamente capaci nel mantenere l'attenzione selettiva su determinati suoni che noi decidiamo in quel momento essere rilevanti e queste sono capacità che servono tantissimo anche per imparare ad apprendere il linguaggio perché il bambino deve ascoltare il parlato diciamo metterlo in evidenza su uno sfondo di rumore e poi sentire le piccole diciamo sfaccettature di pronuncia delle singole consonanti c'è uno studioso voi lo conoscete perché forse avete letto il libro psicologia della musica del Carocci Daniele Sean lui ha ipotizzato è un italiano e il nome sembra straniero ma in realtà lavoro in Francia ma è italiano ha ipotizzato un modello di lettura della musica che in qualche modo si rifà al modello a tre stadi della lettura della parola e quindi ha ipotizzato questo modello che dice che teoricamente quando una persona diciamo esperta legge uno spartito musicale mette in atto tre tipi di transcodifica quella playing like cioè come se suonassi quella singing like come se cantassi quella naming like notes come se pronunciassi i nomi delle note cioè io lettore esperto guardo questo estratto di tre battute della sonata di Mozart in do maggiore senza fare nulla solo osservandolo io metto in moto la mia memoria cinestesica cioè osservo lo spartito e anche senza fare niente programmo il mio corpo come se io dovessi suonare quelle note e questo fa sì che io riesca a leggerle nello stesso tempo attribuisco a questi gesti un suono perché ho una memoria melodica cioè io esattamente col processo logografico globale osservo do mi sol si le prime due battute osservo diciamo la forma grafica di questa melodia e ricavo un andamento sonoro che non è la somma di tante note ma è come se fosse una parola unica che dice do mi sol si do do casa non è k a z a non è do mi sol ma è tutto insieme quindi ho un atteggiamento diciamo di lettura globale come se cantassi nello stesso tempo continuo comunque a decifrare la singola nota dandole un nome per essere comunque sicuro di partire dal punto giusto per iniziare diciamo la mia la mia elaborazione melodica e anche perché mi immagino comunque quelle note sullo strumento e quindi so che a determinati tasti corrispondono determinate note che hanno un certo nome metti in atto queste tre transcodifiche tutte insieme nel modello d'apprendimento bisogna stare attenti a potenziare queste tre transcodifiche tutte contemporaneamente quindi non privilegiarne una a scapito delle altre l'atteggiamento del bambino che guarda il pallino gli dà un nome e poi lo cerca sul pianoforte è una transcodifica playing like è una transcodifica naming like notes ma non c'è assolutamente il singing like transcoding e questo è grave il cervello del bambino deve immaginare il suono di ciò che legge prima ancora di leggerlo l'abbiamo già detto lo dirò mille volte quindi ogni volta che noi insegniamo o comunque stiamo lavorando con degli allievi dobbiamo tenere presente queste tre transcodifiche e portarle avanti sempre in parallelo la domanda è una domanda diciamo quasi filosofica è nato prima il fonema o prima il grafema cioè c'è prima un deficit uditivo o un deficit visivo quando facciamo fatica a leggere un deficit o comunque un rallentamento o comunque usiamo di più la componente uditiva o la componente visiva in realtà c'è un legame causale tra coscienza fonemica e abilità di lettura quindi l'apprendimento visivo in realtà aiuta a segmentare i suoni non è qualcosa da escludere è un grande aiuto quindi apprendere la lettura della musica leggendo solo dimenticandosi di cantare quindi della componente uditiva vuol dire eliminare una transcodifica importantissima e privilegiare troppo l'aspetto visivo e poi di organizzazione motoria tralasciando completamente la rappresentazione uditiva degli stimoli grafici musicali ma è vero anche il contrario cioè se noi pensiamo di insegnare la musica ai bambini a orecchio eliminando la lettura in quanto sembra essere inizialmente un po' distraente che toglie il bambino dalla percezione di che cosa è poi il suono non lo immerge nel sistema uditivo perché il bambino continua a osservare lo spartito beh è anche sbagliato questo perché la scienza ci dice che l'apprendimento visivo è a supporto dell'apprendimento uditivo che grafema e fonema hanno interazioni reciproche e che sostengono entrambe l'apprendimento e vanno quindi sempre elaborate insieme il che vuol dire che noi possiamo anche non far leggere ai nostri allievi uno spartito possiamo solo cantare il frammento do mi sol si do re do o forse anche meno cantare solo do si do e sapere che se non c'è questo prerequisito questa griglia uditiva non potrà il nostro allievo non potrà mai leggere niente però dobbiamo produrre uno spartito e se non uno spartito dobbiamo produrre degli elementi visivi che facciano sì che il cervello del nostro allievo questo do si do non lo ascolti soltanto non lo sperimenti soltanto col corpo per diciamo le esperienze che gli facciamo fare magari con un vibrafono o cantando o ballando ma che sperimenti questo do si do anche in termini visivi quindi o tramite la linea scritta su un pentagramma meglio ancora se la facciamo scrivere al bambino perché ci dimentichiamo sempre di far usare carta e penna ai nostri allievi d'altra parte non è che a scuola imparano a leggere le parole senza mai scriverle fanno le due cose insieme quindi noi dobbiamo smettere di avere sempre spartiti già prodotti da qualcun altro e dobbiamo iniziare a scrivere la musica carta e penna a lezione dando il foglio all'allievo perché è una parte importante dell'apprendimento ma possiamo anche semplicemente attribuire a questo do si do due oggetti che si muovono nello spazio due diciamo movimenti uno con una mano e uno con l'altro l'importante è che gli occhi del nostro allievo attribuiscono a do un elemento visivo e a si un altro elemento visivo e che li vedano questi elementi può anche essere giocare col fatto che do è una mano si è l'altra e il gioco sarà do si do si si do in cui le mani devono essere mosse a seconda diciamo del nome della nota però gli occhi devono vedere che do ha una forma e si ne ha un'altra a Grazie.